salve cari amici eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video chi vi parla è sempre alessio evangelisti felici di tornare nuovamente con voi in questo video improvvisato una mattina un po strana un po storta in quanto mi sono svegliato prestissimo per andare al lavoro perché poi volevo staccare prima perché ho una serie di impegni e poi ho trovato una gomma completamente a terra e ho detto ai ecco qui la giornata non sta cominciando bene sta cominciando male e quindi sono tornato su casa ho mandato una mela al lavoro detto oggi non vengo mi prendo un giorno di ferie e insomma torna giù cambia la gomma vai dal gommista insomma una cosa è un'altra e sono tornato adesso sono le 9 le 9 e 38 della mattina poi ho una serie di impegni e così è andata la giornata ho detto ma sai che c'è proviamo a fare questo video che tanto mi causa perplessità nel senso che ero combattuto e ancora adesso sono combattuto se fare o non fare questo video non lo so il fatto è che mi è giunta una mail dove un signore che ovviamente noi non facciamo mai i nomi delle persone che ci contattano già l'abbiamo detto perché rispettiamo la privacy questo canale rispetta la vostra privacy quando voi scrivete sarete sempre rispettati e come già detto lo vogliamo ripetere questo non vale solo per gli amici anche i nemici che ci che ci scrivete per o per insultarci o per altro comunque noi rispettiamo la privacy di tutti questo è molto importante a meno che proprio non si vada fuori dal penale insomma ma questo è veramente casi proprio eccessiva se no la privacy viene rispettata bene non ho la minima intenzione di fare un video per ogni mail che mi arriva altrimenti non saprei più dove mettere le mani però ho ricevuto una mail che devo dire mi ha mi ha toccato molto l'ho letta molte volte e sono combattuto non so se fare un video se non farlo e allora ho detto senti io provo a farlo poi dopo l'ascolterò vediamo un po pregato anche il signore allora io vi vorrei leggere quello che mi è stato scritto perché vi vorrei far vedere quanti danni fanno le religioni le religioni molte molte fanno danni molte fanno danni non voglio dire ora che tutte le religioni facciano danni ma molte volte o la religione o l'uomo religioso causa di danni e questo vale in tutte le religioni tutte tutte cominciando da quella nostra a tutte le altre molte volte i religiosi fanno danni tutte quindi la religione evangelica un religioso evangelico può fare molti danni un religioso protestante può fare molti danni un religioso cattolico può fare molti danni l'ognosticismo anche quella è una religione anche se non si vuole presentare come tale le religioni pensate che lo stesso ateismo in un certo senso è una religione perché loro hanno il proprio culto al alla non esistenza di dio cioè l'ateismo ha una fede salda che che dice non c'è dio e dal nulla è nato tutto e io sono padrone di me stesso io decido in poche parole è una sorta di gnosticismo perché dice io sono tutto è sufficiente a me stesso e io sono una sorta di dio ed è un culto al proprio io se è così la vogliamo dire infatti se noi andiamo a guardare la storia di quante persone ha ucciso l'ateismo possiamo vedere che ha sorpassato scusate di decine e decine e decine di milioni quelli che hanno ucciso in nome di una religione e con questo non stiamo giustificando nessuno semplicemente stiamo portando dei dati quindi le religioni le regioni sono un guaio sono un guaio cos'è la religione la religione è l'intento dell'uomo nel cercare di conoscere dio di capire dio e di rendere un culto a dio questa è la religione una religione può essere tranquillamente buona un religioso può essere una tra virgolette persona buona ma un religioso può anche diventare una persona non buona cioè che fa del male agli altri poi davanti a dio nessuno è buono e questo è un altro discorso ad ogni modo senza starci troppo a girare intorno veniamo a noi mi ha scritto una persona e io vi voglio leggere quello che mi ha scritto rispettando la sua privacy la sua identità allora questa persona mi chiama e mi dice buongiorno signora alessio allora mi chiamo e mi dice il suo nome che ovviamente io non dirò mi chiamo totte la contatto per avere un suo parere riguardo all'esperienza deludente di qualche giorno fa quindi io la saluto che dio la benedica e grazie per aver investito questo piccolo canale speriamo di poter essere d'aiuto alla signoria vostra parlo così perché giustamente lei mi dà del lei e quindi io mi comporto di conseguenza io mi adeguo sempre mi poteva anche dare del tu lei decide insomma e gli dico subito che sono una persona confusa da un punto di vista religioso e non è il solo ci mancherebbe ho voluto fare quest'ultima esperienza proprio per dire se questa non mi dà nessuna risposta non ascolterò dottrina di nessun genere se non che è gesù stesso a parlarmi e questo fa bene perché gesù parla attraverso la sua parola gloria a dio vengo dal cattolicesimo ho passato per i testimoni di geova ho seguito il fratello giuseppe attraverso radio web non so se ne ha sentito parlare e come se ne ho sentito parlare e quest'ultimo contatto che è di quello che voglio parlare si chiama l'ultima riforma un movimento fondato da un certo torben sondergaard non lo conosco questo non lo conosco ho contattato due di questi che si ritengono discepoli di gesù cristo devo dire che hanno avuto molta influenza nella mia mente facendomi vedere vari video di quello che loro operano applicando il suo operato basandosi sul libro degli atti dicendo di portare all'essere il vecchio modo di fare chiesa andando in giro fare discepoli facendo guarigioni e battezzò sia in acqua e sia con lo spirito santo cioè battezzando immagino che volesse dire sia in acqua che con lo spirito santo tutto questo ha scaturito in me la voglia di battezzarmi e ricevere lo spirito santo che secondo loro era molto influenzato da spirito immondi che dovevano scacciare se l'avessi ascoltato prima il suo video qui parla tra parentesi sullo spirito santo forse non ci sarei cascato punto interrogativo alla vista di quei video che portano in testimonianza dove si vede che nel battezzò escano diavoli gridando e dopo quando ricevano lo spirito sentono una energia occhio a sta parola che entra e comincia a parlare in lingue tutte cose non scritturali non tanto delle lingue che lasciamo stare mi sono fatto convincere di farlo anche io poi lei mette un titolo procedura quindi provvede a descrivere la procedura che viene operata da queste persone si inizia con ravvedimento confessando tutti i peccati commessi chiedere perdono ai singoli persone alle singole persone citando il nome e anche cosa mi avessero fatto nel minimo particolari di male davanti a uno di loro davanti a uno di loro che mentre parlavo la appuntava in un pezzo di carta dopo aver chiesto perdono al padre di tutto questo andammo al battezzò nell'acqua quindi andammo al battesimo nell'acqua vuole dire e dopo quello dello spirito santo insomma questi fanno tutto una sorta di dio per accorciare siamo stati lì tre ore esorcizzando per espellere questi spiriti che non ho mai sentito niente che dovessi liberarmi dopo tanti urla e sentirli pregare in lingue anche i satanisti parlano in lingue lo sapeva hanno tentato di battezzarmi con lo spirito santo loro salute prendiamo appuntamento così ci andiamo tutti quelli che io ce l'ho va bene ma quelli che non l'hanno basta prendere un appuntamento con sta gente ma anche lì non ho sentito niente meno male mi chiedevano di parlare in lingue a loro ti chiedevano le chiedevano di parlare in lingue ma io non sentivo di farlo e ha fatto bene di tutto quello che mi hanno fatto vedere in me non è successo niente mi sono sentito ridicolo e loro si sono resi conto che su di me i suoi prodigi non hanno avuto effetto grazie a dio seguo lei nei suoi video la sento che parla bene e come lei ha detto alla fine del video sullo spirito santo ma io non mi ricordo tutti i video che ho fatto e allontanarsi da questi ma non da dio esatto questo è corretto lei cosa ne pensa di tutta questa storia questa è la domanda del milione e di questo movimento se per caso ne ha sentito parlare e adesso che sono più confuso che mai dove trovo la strada giusta per seguire gesù l'ho fatta un po' lunga ma mi perdoni ho bisogno che qualcuno mi dia una giusta risposta una buona giornata io non so se io ho la giusta risposta per lei però conosco qualcuno che le può dare l'unica risposta giusta e si chiama il signore di gesù cristo ora lei mi ha nominato lei mi ha detto che viene dal cattolicesimo ho fatto uno degli ultimi video dove qualcuno mi scrisse riguardo al cattolicesimo lo trova sulla rete si intitola il video risposta un amico cattolico maria vergine immacolata madre di dio può visionare questo video capisco la sua situazione vediamo un pochino intanto di apportare qualche delucidazione sui movimenti che lei mi ha citato poi mi ha mi ha nominato i testimoni di genova io li chiamo così i testimoni di genova non possono avere amore perché alessio non possono avere amore perché chi mente non può amare e siccome loro non tanto i fedeli semplici ma chi sta alla cupola non può avere amore perché chi mente non può amare e loro hanno preso io ce l'ho una traduzione della parola di dio cioè loro hanno una traduzione dei sacri testi completamente falsificata guardi lei può leggere un po tutti tutte le revisioni cattoliche evangeliche tranquillamente ma quella dei testimoni di genova di genova lasci stare quindi queste persone non possono avere amore lei è passato anche per questa situazione poi mi cita un certo fratello giuseppe che io so perfettamente chi è e non faccio il cognome così se qualcuno gli venisse in mente di querelarmi dei fratelli giuseppe ce ne stanno tanti io ho conosciuto tanti fratelli giuseppe quindi potrebbe essere chiunque ma abbiamo già capito però a chi ci riferiamo e questo qui che lei mi nomina tra l'altro è anche un antitrinitario anche se lo non lo dice sempre ma io ho un un suo come si chiama una sua registrazione audio dove lui scusate io ogni volta che inizio a parlare non è una cosa incredibile ho una sua registrazione a audio dove lui proprio rinnega la trinità con queste testuali parole lui dice che il signore gesù e lo spirito santo non sono due persone diverse ma sono una stessa persona questa è una e io ce l'ho è io ho la registrazione audio anzi le dirò di più se vuole io questa registrazione audio gliela posso anche mandare tranquillamente perché io ho la sua mail così proprio le dimostro quello che le sto dicendo e il gilamandu è tranquillamente perché ce l'ho è una registrazione audio pesa poco e niente quindi per dire che io posso provare tranquillo e poi basta ascoltarlo insomma quindi stiamo parlando di un di un antitrinitario di un qualcuno che sta facendo sta predicando che la chiesa passerà per la grande tribolazione e questo questa è una aberrazione va proprio contro il fondamento della parola di dio insomma il mondo il mondo religioso nel mondo religioso nel mondo nel mondo sia religioso sia non religioso si possono trovare brave persone persone sincere e si possono trovare anche persone non brave e non sincere questo non vale solo nel mondo religioso ma vale proprio in tutto il mondo anche in mezzo agli atei ci possono essere essere persone che si comportano bene e ci possono essere mascalzoni ok nel mondo medico ci possono essere bravi medici e ci possono essere medici che si vendono e che fanno cose che non devono fare insomma qui non è che ora vogliamo dire che il problema del mondo è la religione no problema del mondo il peccato il peccato è entrato nell'uomo e tutti gli uomini sono siamo diventati peccatori e quindi pur rimanendo tutti peccatori però ci sono uomini che hanno una coscienza come tutti quanti gli uomini ma ascoltano quello che dice questa coscienza e ci sono uomini che non ascoltano questa coscienza questo vale nel mondo religioso nel mondo e da tutte quante le parti e vabbè fino qua ci siamo quindi lei è incappato con dei religiosi che tutto fanno meno che ascoltare la parola di dio e ancora di meno quello che dice la propria coscienza ovvero una su tutte quella di non mentire quindi lei si è trovato con delle persone che a un certo punto lei mi ha raccontato una certa procedura che io adesso esaminerò in modo molto prammatico insieme a lei allora la procedura dice si inizia con ravvedimento ravvedimento confessando tutti i peccati commessi chiedere perdono ai singoli persone citando il nome e anche cosa mi avessero fatto nei minimi particolari di male davanti a uno di loro ecco allora ascolti non posso fare il suo nome per motivi di privacy la chiamerò caro amico ascolti caro amico immagino lei venendo dal cattolicesimo non posso dire che in mezzo ai testimoni di genova abbia letto la bibbia perché non hanno una bibbia immagino che lei ha letto la parola di dio allora tutti noi siamo peccatori lei non può andare e confessare i suoi peccati a un altro peccatore questo non è possibile lei può chiedere scusa a qualcuno se gli ha fatto male a lui in privato tipo io passo detto alla romana t'acciacco il piede senza volerlo e ti dico scusa t'ho acciaccato il piede ok vedate la mano vedate il bacetto e va andata a prendere il caffè e finisce quello è chiedere scusa ma non confessare i propri peccati a un uomo che sia un vescovo che sia un prete che sia un pastore che sia uno pseudo ministro lei non può confessare i suoi peccati davanti un uomo lei deve giustamente deve confessare i suoi peccati ma dio e lo deve fare in privato lei si deve chiudere ecco come dice il sacro evangelo nella sua cameretta si deve mettere in ginocchio deve intanto riconoscere che lei è un peccatore e poi confessi i suoi peccati al padre preghi il padre nel nome di gesù il signore gesù ha detto fino adesso voi non avete chiesto nulla nel mio nome ma ora io vi dico tutto quello che voi chiederete nel mio nome questo vi sarà dato questo scritto nei vangeli nel vangelo di giovanni lei ha mai letto il vangelo di giovanni lo legga ma non una volta lo lega lo rilegga il vangelo di giovanni è meraviglioso il vangelo di giovanni ci presenta la realtà del padre la realtà del figlio e la realtà dello spirito santo come il figlio parla col padre i due mandano lo spirito santo nessuno manda lo spirito santo se per il volere del padre altrove dirà nessuno manda lo spirito santo per il se non per il volere del figlio quindi tutte e due hanno la stessa autorità alleluia gloria a dio tutte queste cose sono ben descritte nell'evangelo di giovanni lega l'evangelo gloria a dio altro che confessare i peccati agli uomini non faccia questi errori ovvero non continui a farlo quindi poi continua e dice che uno di loro mentre lei confessava i propri peccati scriveva su un pezzo di carta i suoi peccati lei ha mai visto una pratica del genere nel nuovo testamento o nell'antico testamento non esiste non esiste e dio dice che quando anche in isaia i nostri peccati fossero rossi come lo scarlato se li confessiamo se li lasciamo diventeranno bianchi come la lana saranno gettati nel più profondo del mare saranno dimenticati quel che si dimentica si dimentica no che si scrive quel che si scrive rimane poi dice dopo aver chiesto perdono al padre di tutto questo andammo al battezzò cioè al battesimo nell'acqua e dopo quello dello spirito santo guardi il battesimo dello spirito santo descritto infatti degli apostoli dal capitolo 2 in poi perché poi durante i fatti degli apostoli ci saranno altri battesimi nello spirito santo il battesimo nello spirito santo battesimo significa completa immersione è un qualcosa che viene dal padre che viene dal figlio che viene dallo spirito santo il padre e il figlio mandano lo spirito santo e il padre il figlio si sono accordati si sono parlati perché gesù dice io pregherò il padre ed egli ed egli vi darà lo spirito santo alleluia chi dà lo spirito santo è dio è la trinità non è un uomo qui c'è una grande confusione io non la voglio confondere molto i primi dodici apostoli avevano dei doni particolari che ti imponevano le mani e ricevevi il battesimo dello spirito santo ora i dodici apostoli i primi dodici apostoli sono irripetibili di questo ne ho già parlato altrove ma non voglio troppo adesso mettere come si dice a roma troppa carne sul fuoco e nessun uomo può dare a lei lo spirito santo nessun uomo lo può fare nessun uomo al mondo ha mai potuto eguagliare uno dei dodici apostoli loro sono stati unici e irripetibili a tal punto che è scritto che il fondamento è messo su cristo e sopra cristo ci sono gli apostoli che hanno gettato questo fondamento e poi tutta la chiesa e nessuno mai è stato come uno di quei dodici apostoli sono irripetibili sono irripetibili e non cerchi ricevere doni o ancora ancora di più il battesimo dello spirito santo da un uomo il battesimo nello spirito santo si riceve da dio si chiuda nella sua cameretta preghi il padre nel nome di gesù che il signore lo battezzi con lo spirito santo parlare in altre lingue lo fanno anche i satanisti i satanisti si sa parlano altre lingue perché perché lo spirito santo non è una lingua quello è un segno lo spirito santo è una persona è dio che ti entra che il fatto che un cristiano poi parli altre lingue è che ha è il segno che lo ha ricevuto ma attenzione un cristiano dopo aver ricevuto il battesimo dello spirito santo può spegnere quello spirito perché cade nel peccato torna al peccato torna nel vomito magari le lingue gli rimangono come segno che un giorno lo ha ricevuto ma non ha più lo spirito santo dentro al suo cuore come si fa a sapere se un credente se un cristiano è ripieno o non è ripieno di spirito santo dai frutti dai frutti dai frutti questa gente qui non ha portato frutti di cristianesimo ma ha portato frutti di satanismo e questi qua che parlano lingue sono tutta gente involucrata con mondi bui e oscuri caro signor amico poi mi dice siamo stati tre ore esorcizzando per espellere questi spiriti che non ho mai sentito niente che dovessi liberarmi dopo tante urla e sentirli pregare in lingue hanno tentato di battezzarmi con lo spirito santo abbiamo già risposto a questa aberrazione ma anche lì non ho sentito niente mi chiedevano di parlare in lingue signor amico nessuno può dire a un altro di cercare di parlare in lingue le lingue vengono da dio se dio gliele dà bene se dio non gliele dà non c'è niente da fare attenzione a queste pratiche dovessero uscire delle lingue che non vengono da dio mi sono sentito ridicolo e loro si sono resi conto che su di me i suoi prodigi non hanno avuto alcun effetto ok signor amico fuga da queste persone fuggite da queste persone fuggite da chiunque vi dica di parlare in lingue da voi fuggite da questa gente fuggite da questi falsi apostoli fuggite da quelli che vi dicono che invece di pregare ordiniamo decretiamo perché come scritto che la montagna vada lì e si getti nel mare così noi possiamo ordinare decretare nel nome di gesù no non funziona così noi preghiamo noi preghiamo guardiamo i passi nel contesto noi preghiamo è il dio che opera in noi lei mi dice sono più confuso che mai dove trovo la strada giusta per seguire gesù allora cosa deve fare ecco io purtroppo mi trovo impedito nel darle un consiglio perché non la conosco io non conosco lei e dovrei conoscerla ci dovrei un conto ma anche se la sentissi al telefono io una persona la devo conoscere devo capire chi ho davanti e se no non sono non sono non sono in grado di dare un consiglio netto quello che le posso dire è che per per adesso stia un po fermo non vada più da nessuna parte per carità di dio perché giustamente lei non ha da quello che lei mi dice un giusto una giusta conoscenza una forza spirituale per poter distinguere come scritto il bene dal male magari capita in un altro posto che sarà ancora peggiore lei neanche se ne rende conto e poi dopo si brucia ancora di più e va a finire che non vuole sapere più niente di dio cosa sbagliatissima allora lei cerchi un pochino adesso di trovare un po di serenità nel signore non vada da nessuna parte stia stia tranquillo stia a casa sua e cerchi la faccia del signore legga il nuovo testamento noi nei nostri video se vuole presentiamo una sana dottrina tutte queste sciocchesse non le presentiamo le presentiamo l'opera del padre le presentiamo l'opera del figlio le presentiamo l'opera dello spirito santo quella vera denunciamo anche falsi movimenti falsi apostoli falsi insegnamenti denunciamo parliamo della sana dottrina parliamo della fine dei tempi queste cose il signore ce le ha profetizzate ci ha detto che sarebbero successe quindi io sarebbe buono che lei non non ascoltasse nessuno dice neanche te neanche me che si attenesse solamente a quello che dice il signore nella sua parola e cercare un pochino di che la faccia del signore io ecco non sono in grado di darle dei consigli perché non ce l'ho davanti non so se lei se riesco a trasmetterle questa mia incapacità di da di dare un consiglio a qualcuno attraverso un pezzo di carta che non ho davanti non so non so chi ho davanti quindi sono in completa difficoltà già siamo incapaci davanti una persona che conosciamo figuriamoci attraverso una lettera che io non so minimamente nulla di lei quindi io non sono in grado di darle un consiglio quello che ho potuto fare e intanto dirle che lei si giustamente già l'aveva capito si è messo con gente che non doveva mettersi e le ho spiegato molto brevemente biblicamente parlando perché non doveva mettersi perché non deve proseguire l'amicizia con questa gente assolutamente quindi per adesso semplicemente legga la parola di dio soprattutto adesso si dedichi a punti di più sul nuovo testamento in particolare il vangelo di giovanni anche il resto si legge un salmo al giorno può leggere anche un po della genesi vada piano così e preghi il padre nel nome di gesù che lo rivesta della sua presenza del suo spirito che gli mandi il suo spirito lo spirito santo e gioia lo spirito santo il padre manda gioia serenità non manda esaltazioni i frutti dello spirito non è urlare adirarsi essere violenti niente di tutto questo lo spirito santo è razionale lo spirito santo è luce e non è che uno si metta a pregare subito può anche succedere per carità di dio tutto è possibile però molte volte l'opera dello spirito santo anche quando tu pensi che non è successo niente il signore sta operando magari lei inizia a pregare e il signore inizia a operare come pregare si metta seduto cinque minuti così come sto io alzi alzi la mano al cielo dica padre nel nome nel nome di gesù vengo a te signore aiutami signore tira fuori questo spirito di confusione dentro il mio cuore illuminami attraverso la tua parola che è verità ecco poche parole poi apre la parola di dio va che ne so io la apro a caso nel vangelo di giovanni eccolo qua è aperto proprio nel primo capitolo e comincia a leggere nel principio la parola era quindi tutto è stato creato dalla parola la parola era presso il dio quindi vediamo una parola e vediamo dio ci sono due unità come possiamo vedere già la trinità e la parola era dio quindi la parola era presso il dio e la parola era dio quindi abbiamo due unità che sono due persone diverse e tutte e due sono dio alleluia essa era nel principio presso dio ogni cosa è stata fatta permesso per mezzo di essa e quindi vediamo che la parola ha creato ogni cosa quindi ricollegandoci alla genesi quando leggiamo che dio nel principio creò il cielo e la terra possiamo vedere che a creare il cielo e la terra è stata la parola e poi più avanti dirà la parola si è fatta carne ed abitato un tempo in mezzo di noi quindi possiamo vedere che parla di cristo e che cristo ha creato i cieli e la terra e che c'è un padre c'è un figlio c'è uno spirito santo legga un pochino il vangelo di giovanni vede vede perché è molto importante leggere il vangelo di giovanni insieme anche a tutto quanto il resto ma piano piano e poi preghi come le ho detto si mette seduto in piedi in ginocchio come vuole come vuole alzi la mano al cielo chieda l'intervento del padre poi cinque minuti cinque minuti smette di pregare alza la mano al cielo e da lode gloria al signore gli dice signore gloria al tuo nome signore benedetto sei padre ti lodo ti glorifico lodi il padre lodi anche il figlio lodi anche lo spirito santo lasci stare gli altri chi le dirà che non bisogna adorare il padre il figlio lo spirito santo chi le dirà questo lasci stare tutto c'è un dio e va adorato c'è un padre va adorato c'è un figlio e va adorato c'è uno spirito santo va adorato pregare preghi il padre nel nome di gesù per lo spirito santo tranquillamente faccia queste cose piano piano durante le sue giornate faccia dedichi del tempo a dio dedichi del tempo in questo modo lasci stare religioni movimenti che se no va a finire che lei si confonda ancora di più e poi non ci capisce più niente poi prende butta tutto e non vuole sapere più niente neanche di dio e questo non è giusto non è giusto soprattutto per dio ma soprattutto per lei stesso perché noi senza dio non possiamo fare nulla è scritto in prima giovanni capitolo 15 verso 5 voi senza di me ha detto gesù non potete fare nulla questo è il consiglio che io le do per adesso è il massimo che posso fare per lei perché io non la conosco e quindi più di questo non posso fare anche se la sentissi al telefono non risolverebbe un granché perché io la persona la devo avere davanti la devo frequentare la devo conoscere devo capire di più e allora già il discorso cambia ma così come diciamo a Roma d'amblè è il massimo che posso fare per lei questo è il mio piccolo consiglio spero le sia stato di aiuto mi scriva altre mail consideri che io lavoro la chiesa la famiglia e tutte le cose non è io chi mi scrive nelle mail faccia aspettare pure una settimana però per lei cercherò un po' di abbreviare i tempi mettetevi pure nei miei panni io non sono dio e c'ho domani e dieci dita grazie a dio che ce l'ho quindi più di tanto non posso fare non è tutto immediato quindi ci vuole un po' di pazienza abbiate pazienza con me e questo è quanto signor amico caro amico io sono dispiaciuto di quello che le è successo spero che questo la possa fortificare e non poggi la sua speranza negli uomini perché noi uomini possiamo anche deludere un'azione una parola sbagliata non fidiamoci mai di nessun uomo solo dio è affidabile l'uomo per quanto possa essere anche in gambe bravo è sempre una persona che ti può deludere chiunque ti può deludere anche io la posso deludere quindi non non posi mai la sua fiducia nell'uomo la fiducia va riposta in dio poi uno ascolta ascolta ma sempre attento e giudichi tutto in virtù di quello che è scritto nella parola di dio questo è quello che io le rispondo e state attenti a questi celtroni vedete quanto è importante quelli che lo fanno denunciare gli apostati chi sei tu per giudicare e noi rispondiamo capra io non giudico denuncio e poi io giudico e come è l'unica cosa che sanno dire no denunciare l'apostasia serve proprio per evitare questo ecco perché si denuncia l'apostasia l'apostasia si denuncia l'apostata si denuncia e come se si denuncia con nome e cognome altro che come sta scritto nella parola di dio perché tu tu giudichi perché sono cristiano e allora giudico ogni cosa le capre non giudicano e se magnano tutto bene caro amico questo è stato il piccolo video io spero di esserle stato d'aiuto se non lo sono stato vada da chi la veramente comunque la può aiutare solo il signore la può aiutare a lei faccia queste cose che le ho dette come diceva il mio pastore quando si gloria a dio non si sbaglia mai quando si dice gloria a dio non si sbaglia mai quando si passano un po un po di minuti cinque dieci minuti seduto in piedi a lodare il signore non si sbaglia preghi il padre lega la sua parola cerchi che dio entri nel suo cuore con lo spirito santo chieda liberazione al padre chieda al padre non vada dagli uomini non se faccia imporre le mani da nessuno a proposito se viene uno e gli dice te impongo le mani non si non vi fate imporre le mani dice sei contrario desti tempi si lascia fa il signore ti impone la sua mano alleluia gloria lo spirito santo il signore è l'unico che può liberare l'unico l'unico alleluia l'unico gloria a dio si fortifichi capisco che sta passando un brutto momento ma cerchi la faccia del signore in questi ultimi giorni difficili difficili molto difficili che dio la benedica grazie per averci iscritto e con lei e con voi è stato il vostro amico alessio evangelisti e se il signore vorrà ci si vede al prossimo video programma la pace del signore sia con tutti noi amén gloria a dio